Peugeot 508 station wagon il 2000 diesel da 163 cavalli ci è piaciuto molto l'equilibrio generale della dinamica e del comfort un buon mix di gradevolezza di guida appunto e di assorbimento delle sospensioni il motore spinge bene dai mille giri fino a quasi alla banda rossa il cambio in questo caso è manuale molto fluido negli innesti con un leggero gioco della leva l'impianto frenante è molto buono spazi veramente contenuti e buona modulabilità in ogni situazione la stabilità è assicurata dall'SP sempre attivo quindi la macchina tende a partire leggermente ma è sempre controllata appunto dall'elettronico per la prova approfondita vi aspettiamo in edicola sul prossimo numero di gente motore